Musica Vi vedo pronti e allora anche lui è pronto Chiamiamo il mio fantastico personal trainer Cristian Granata Ciao Federica, buongiorno Nuovo giorno e nuovo giorno d'allenamento Tutti mi dicono che cosa possiamo fare per il nostro lato B Vogliamo dargli un consiglio Aiutiamoli Federica Oggi facciamo tre esercizi per gambe, glutei e femorali Sei pronta? Prontissima Run Federica Primo esercizio, bello intenso Federica Falzi sullo stretch Ammortizzo e scende Musica 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 Ottimo Fede, dai L'ultimo Perfetto Very good In questo esercizio Glutei e femorali Spingi su col bacino E mantieni la posizione Ok Torna verso terra Fiori E su subito Ottimo Hanno lavorato? Hanno lavorato Perfetto Ultimo esercizio di questo mini circuito per le gambe Squat Ok Pronti a me Scendo E contraigo i butti E' troppo facile per te Fede Mi do una bella palla da 5 kg Ok Stessa cosa Palla Palla E sposa 5 kg eh Anche voi potete farlo se avete qualcosa che pesi almeno 5 kg Ottimo Fede Lavoro bello E incenso Abbiamo lavorato sui glutei Andiamo ad allungarne un pochettino Giusto A cavallo la gamba Perfetto Porti il ginocchio sinistro verso di te E fai trazione Passi in mezzo E stia Ok Teniamo questa posizione in 15 secondi Perfetto Cambio gamba Ok Altri 15 secondi Ok Noi ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao